Il cantere può attendere, almeno per ora. I lavori tanto temuti lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno da cronoprogramma dovevano scattare lunedì scorso e invece sono slittati. La causa sarebbe da collegare all'imminente passaggio del Giro d'Italia che nella seconda tappa da Bologna a Fucecchio transiterà proprio per l'Empolese nella giornata di domenica 12 maggio. E così la chiusura delle strade provinciali limitrofe sono risultate incompatibili con il restringimento di carreggiata della strada Grande Comunicazione che avrebbe complicato i piani della carovana in rosa. Ma si tratta comunque di una rivoluzione per la viabilità rimandata ed imminente. Il maxicantiere investirà nelle prossime settimane i 4 chilometri tra Ginestra e Montelupo in una prima tranche e i 2 chilometri 800 metri tra Montelupo e Empoli Est nella seconda parte del piano operativo. Totale 240 giorni di passione per gli automobilisti toscani, 8 mesi compreso l'esodo estivo. Ma l'intervento non è una semplice manutenzione, bensì un'opera nuova come la definiscono dalla regione che ha investito 5 milioni di euro, sagomatura delle curve, massetto asfalto guardrail nuovi. I lavori riguardano il rifacimento del spartitraffio centrale con adeguamento a norma, rifacimento della pavimentazione in alcuni tratti anche in maniera abbastanza consistente, composizionamento di nuovo asfalto drenante e cunicolo per la fibra ottica. Quello tra il capologo di regione l'Empolese d'altronde è lo spezzone più vecchio della FIPILI che risale addirittura al 1973 ed è considerato anche quello più pericoloso.